Ciao! Ciao! Che cosa fate questo fine settimana? Io vado a New York City. Caspita, io vado a Boston. Che divertimento! Ho viaggiato in entrambe le città. Quale città ti piace di più? Entrambe le città sono molto divertenti. Non ho un preferito. Beh, la qualità della vita è migliore a Boston di New York City. Sì, ma New York è più bello di Boston. Boston ha i migliori ospitali del mondo. New York City ha negozi di fascia alta migliori di Boston. Il costo della vita è meno a Boston di New York City. New York City è più grande di Boston. Sì, ma Boston è meno affollata di New York City. Nel complesso, mi piace vivere a Boston che a New York City. Sono d'accordo, ma anche mi piace New York City. Mi piace vivere a Boston che a New York City. Caspita, che bella giornata. Fa caldo. Sì, è una bella giornata, ma preferisco l'inverno perché fa freddo. Il colore è migliore del freddo, Gabby. Sì, il clima in estate è ottimo perché la natura è bellissima, il sole sprende sempre e puoi andare in spiaggia. Sono d'accordo, ma l'inverno è più divertente dell'estate perché è nevica e puoi giocare nella neve. Lo ammetto che giocare nella neve è divertente, ma non mi piace che il sole tramonti presto. Sì, è vero. In estate le giornate sono più lunghe che in invierno. Beh, io penso che l'inverno è tanto bello quanto l'estate. Ok, sono d'accordo con te, Gabby. Lo ammetto che le due sono belli, ma preferisco l'estate. Caroline e Jakey, sei mai stata in Italia? Sì, io sono stata a Roma. Sì, io sono stata a Milano. Caroline, è Roma più storica di Milano? Sì, Roma è più storica di Milano perché Roma ha i più siti storici. Jakey, è la moda migliore a Milano che a Roma? Sì, hai molti negozi in Milano e la moda è moderna. I vestiti di Milano sono bellissimi. Caroline, quale è il migliore sito storico di Roma? Il Colossio è il migliore sito storico di Roma perché è molto famoso. Jakey, il cibo è ottimo in Milano? Sì, il cibo di Milano è buonissimo. Mi piace mangiare la pizza Margherita. Oh, penso che Roma è tanto bellissima quanto Milano. Ciao.